Ciao ragazze! Allora, vedete del casino dietro di me perché come vedete sto preparando la valigia perché parto per le ferie e non vedevo l'ora. Probabilmente vedrete questo video proprio quando ovviamente sarò già partita, anche già arrivata. Volevo farvi questo video perché ci tenevo a farvi vedere quello che porterò con me in viaggio. Sarò via più o meno un mesetto, non sempre nello stesso luogo ma in due luoghi diversi, sarò sia in Sardegna che ovviamente in Puglia, a casa mia, non vedevo l'ora. Allora, partiamo per il video. Cosa porterò per questo mese di vacanze? Ovviamente non starò lì a pensare al trucco, ai colori, quindi ho portato delle cose molto semplici, versatilissime, da tutti i giorni. Allora, da dove partiamo? Partiamo dai pennelli. Allora, per quanto riguarda i pennelli porterò questa... mi è caduto un pennello? Sì, no, finito. Porterò questa pochettina, che è quella lì di Kiko, della collezione di Natale, in cui ho messo tutti questi pennelli qui, sia per occhi che per viso, più un altro che utilizzo per il contouring. Allora, non vi dirò... non mi dilungherò troppo su questo tema, sono tra l'altro da lavare, stasera li laverò assolutamente. Porterò questo qui per quanto riguarda il blush, che è l'H21 di Akuro. L'H, no, non è nessun H. Il Sephora numero 45 per quanto riguarda il fondotinta. L'Akuro H13 per quanto riguarda invece il contouring. Da cipria, questo qui della Berminers, tre pennelli della MAC, che sono i classici, 217, 239 e 219, sfumatura, applicazione e a penna. Questo qui della Neve Cosmetics, che è per la precisione, ve lo dico subito, lo Sky Corrector, che serve appunto per andare ad applicare il correttore nelle zone più angolate del viso. Dopodiché porterò gli ultimi tre pennelli, che sono questo qui, praticamente, è un pennello che non ha marca, devo dire, ma ha sitole sintetiche per applicare con precisione l'ombretto sulla palpebra mobile. Questo qui, che è di Kiko, che è il numero 211, che è praticamente fatto così, che mi aiuta a mettere l'ombretto sotto l'arima inferiore dell'occhio. E l'ultimo, invece, che è della Neve Cosmetics, che è il Violet Eyebrow, che mi è utile appunto, vedete che è angolato, per fare appunto le sopracciglia, questi pennelli che porterò con me. Poi, per quanto riguarda invece le palette, le palette ne ho deciso di portarne aiuto, di portarne tre. Una che conoscete ormai tutti, che è la Naked 3, questa qui, che ha tutti questi colori sui toni naturali, sia shimmer che matt. Ho deciso di portarla appunto per il nero, che è un nero particolare, e soprattutto per Nuner Limit e Dust, che sono i colori che utilizzo di più, perché sono neutri, perché danno luminosità all'occhio. Poi ho deciso di portare la Naked Basic, utilissima anche per fare le sopracciglia, e comunque piccolina, semplicissima da portare. E poi ho deciso di portare, invece, quella della Make Up For Ever, la Blue Sepia, che avevo preso nella vacanza precedente, perché contiene tutte queste tonalità di marrone, sia calde che fredde, più un colore, diciamo, diverso, più luminoso, che mi può aiutare a fare un look più particolare. Queste le palette. Per quanto riguarda invece il viso, il mio solito primer della Sephora, come fondotinta, ho deciso di portare invece questo qui, la Haude Magic della L'Oreal, perché mi sta quasi finendo, dovrò ricomprarlo, probabilmente lo ricomprerò in vacanza, non riesco a vedere dove è arrivato, ma penso che sia, sì, sia qui, penso che comunque mi basti, ma sono intenzionata a finirlo, perché ho preso diverse scorte, e comunque volevo ancora prenderne un altro durante le vacanze. In alternativa, per i giorni più caldi, poiché lì c'è un caldo che sicuramente dalle mie parti, qui su al nord, non è caldissimo, ho deciso di portarmi il Ready della Berminers, che è un fondotinta compatto nel colore R210, che mi piace tantissimo, voi lo sapete, ve l'avevo detto anche nel video haul, perché mi riesce a dare quell'uniformità al viso senza appesantirmelo. Ottimo fondotinta, per quanto riguarda la cipria, anche qui voglio terminare questa qui, che avevo tra l'altro rotto la confezione, ve l'ho fatta vedere milioni di volte, che è la L'Oreal BB Nude Magic, si dico bene, che è questa cipria, e ho toccato tra l'altro la cialda, e voglio assolutamente finirla, poi sicuramente la ricomprerò lì in viaggio. Poi, per quanto riguarda il contouring, ho voluto portare Laguna di Nars, che è praticamente questo blush completamente matto, c'è chi dice che ha delle micro perlescenze, effettivamente sulla cialda si vedono, però sul viso assolutamente è neutro, è un colore che mi piace tantissimo, dalla videocamera si vede che è più caldo come colore, in realtà è una tonalità assolutamente fredda, ed è quello che indosso anche oggi. Poi, per quanto riguarda il blush, ne ho portato soltanto uno, avevo anche il duo dell'ultima collezione della Kikola Daringame, però ho preferito portare questo colore qui, rosato, perché sono in fissa con i toni del rosa per quanto riguarda il rossetto, ho preferito portare questo qui, rosato. Poi, per quanto riguarda gli occhi ancora, porterò due Pupa Vamp, esattamente il numero 100, che è questo qui, vi faccio vedere, che è un colore soltanto molto luminoso, ma molto molto naturale, e poi porterò anche il numero 101, che è praticamente questo dorato qui, che dà tantissima luminosità all'occhio. Che altro? Passo a questa pochettina qui, questa pochettina qui contiene diverse cose. Allora, ho inserito questo lopaggio, allora, ho inserito tre rossetti, questi qua, per la precisione. Uno è, appunto, un Haim di Pupa, nello specifico è il 406, che è esattamente questo qui che indosso. Mi piacciono tantissimo, perché è matte, perché dura tantissimo. Ve l'avevo già detto in un video precedente, forse un video haul, oppure in un altro video che era un videotag, non mi ricordo. Poi porterò, ovviamente ho abbinato tutto a quello che ho portato di abbigliamento, porterò anche il Toying Round della MAC, che in videocamera sembra sparato, ma in realtà è un corallo, non è così acceso come si vede in videocamera. L'ho portato perché è una canottina a corallo con cui voglio abbinarle. Sinceramente, ne mettere un fucsia con una canottina a corallo non mi piaceva tantissimo. Ultimo, che non è una New Entry, ma quasi, è questo qui, che è praticamente il Glam Matte della L'Oreal, che è questo corallo matte assolutamente e dura tantissimo. Questi rossetti che ho portato. Per quanto riguarda i mascara, ho deciso di portarne in realtà due, però risulterebbero tre, ma vi spiego perché. Allora, ho portato il campioncino, diciamo, la mini size che vendono da Sephora, del The Real di Benefit, che io adoro. Io ho anche la full size, non so, forse si vede esattamente qui, devo averlo messo qui. Ho anche, sto finendo la mini size, quindi ho anche la mini size. Ho voluto portare, come sempre, il Telescopic della L'Oreal, perché non riesco a rinunciare comunque a lui, ed è nel classico nero. E poi ho voluto portare anche il nuovo top coat della Kiko, che è il False Lashes Concentrate Volume and Definition Top Coat Mascara, che è questo mascara nuovissimo, mascara barra top coat della Kiko, che vi assicuro, ragazze, fa delle ciglia pazzesche. Io l'ho messo stamattina, e non si vede neanche più, l'ho messo stamattina di fretta e furia alle 8, quando sono uscita, sono andata a sbrigare le ultime cose, e vi assicuro che vi lascia proprio delle ciglia pazzesche, una definizione pazzesca e ve le allunga tantissimo. Poi, per quanto riguarda le sopracciglia, ho portato quattro prodotti, ma in che senso? Allora, il mascara della Essence per le sopracciglia, si chiama il Lush & Brow Gel Mascara, questo qui che mi aiuta moltissimo a fissare le sopracciglia, mi piace da morire. Tra l'altro, devo ancora farvi il video delle sopracciglia, vediamo quando riesco a farlo, probabilmente quando ritornerò, promesso, ve lo faccio. Poi ho portato la penna struccante della Deborah, questa qui mi piace tantissimo, perché avendo questa punta molto sottile, riesce comunque a sistemare le magagne che vado a creare quando sbaglio un po' con la mano. Poi ho deciso di portare il solito duo della Essence, questo qui, che contiene appunto questi due colori, il chiaro e lo scuro, anche se io utilizzo moltissimo questo scuro, perché spesso vado, come oggi, a metterlo un pochino nella piega dell'occhio, quindi mi dà anche profondità, lo uso in doppio modo. Matita per le sopracciglia, la mia solita di Deborah, che è praticamente l'Ebrow Perfect, appunto, della Deborah Milano, che ho appena iniziato, ma ragazze, il contro di questa matita, che è la mia, è solo questa, non è tanto tanto lunga, però, insomma, basterà per questo, ovviamente per questo mese, non me le mangio ancora. E poi, come illuminante, e sia illuminante sotto l'arcata sopraccigliare, a volte lo utilizzo anche come illuminante sul viso, o addirittura, lo vado a mettere, quello che è poi la sua funzione, sull'occhio, è questo color infallible, nello specifico, è il numero 002 Hourglass Beige, che è meraviglioso, tant'è che ho la scorta di questo qui, ed è praticamente questo beige chiarissimo, vi faccio uno swatch, e vi faccio vedere com'è. Allora, così è sulla mano, e qui appunto il dito, è bellissimo, perché quando vado a metterlo sul viso, mi dà, come vedete, guardate, mi dà una luminosità pazzesca, e lo vado a mettere, ovviamente, nei punti strategici, quindi lo uso sia come illuminante, che come ombretto, che per punto luce sotto l'arcata sopraccigliare, tra l'altro, non so, sì, forse si vede, sono riuscita a metterlo, l'ho messo proprio oggi sotto l'arcata sopraccigliare, per dare più definizione all'occhio. Matite e labbra, ne porto esattamente tre, e porto, come sempre, sfilata della Neve Cosmetics, perché lo uso sia come rossetto, che come contorno labbra. Vado a utilizzare, a portare anche questa qui, che è la numero 34, della collezione appunto, Daring Games, della Kiko, che ha questo viola, viola, questo fucsia, che tende più al viola, bellissimo, della Kiko, tra l'altro, queste matite labbra, insieme ai rossetti, che fanno in combo, hanno una durata pazzesca, e sono ottime anche per essere usate come, proprio come rossetto. Ultima matita, sempre della Kiko, utilizzo la 709, che invece è un pochino più rosata, sembra uguale a questa, ma ragazzi, è un po' più chiara, proprio sul rosa. Poi, ombretti, mi sono portata, ho il full size, però, volevo portarmi, un campioncino, di un ombretto, di MAC, che io, amerò, e amerò per sempre. L'ho messo in questa jar, sempre di MAC, ho finito un pigmento, che avevo all'interno, ed è praticamente, Kitschmas, avevo preso, il campioncino, proprio di Kitschmas, e all'interno ho rimesso Kitschmas, perché poi ho ricomprato la full size, quindi ho rimesso un campioncino, di Kitschmas, in questa jar, ed è un ombretto, che mi piace da morire. Poi, porterò con me, anche questo, Collistar, ombretto effetto gioiello, non so che numero, sì, il numero 01, rame, però tutto è, tranne che rame, perché vi assicuro, che è un rosa, brillantissimo, e provo a farvi, uno swatch, vediamo, eccolo qua, vi faccio uno swatch, ed è praticamente questo qui, che il videocamera, sembra più morroncino, ma è più, un rosato, e mi piace da morire, perché fa, un'ottima base. Poi, porterò con me, anche altri due ombretti, uno che è il numero 08, della Ice to Kill, di George Armani, vi ho fatto anche un tutorial di Natale, mi sembra l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo, è questo ombretto luminosissimo, veramente luminoso, che vira tra il rosa e il bianco, ma anche dei riflessi azzurri, bellissimo, come ombretto in crema, vado a portare invece, Bare Study, che è questo, vi faccio vedere, è questo ombretto appunto, della MAC, questo Paint Pot, della MAC, super, super luminoso, può essere usato, sia da solo, ma è anche ottimo come base, perché se andiamo a mettere, questo ombretto, e andiamo a mettere, poi, un ombretto molto luminoso, sulla palpebra, ci dà ancora più luminosità, poi, per quanto, ancora un altro ombretto, tanto per non farci mancare niente, mi porterò dietro, questo Long Lasting, della Kiko, per la precisione, è il numero, 07, ed è praticamente, uno champagne, dorato, ed è appunto, questo qui, che dà anche questo qui, luminosità all'occhio, ultime cose, oltre la, la classica pinzetta, e il classico temperino, sono, l'eyeliner, e utilizzerò, il Super Liner, Perfect Slim, della L'Oreal, che sapete, mi piace tantissimo, e l'ho ricomprato, e come ultimo prodotto, comodo da portare in viaggio, è lo Skin Evolution Concealer, sempre della Kiko, il mio, nel colore appunto, 01, che utilizzo, a volte, per le occhiaie, ma voi sapete benissimo, che io ho pochissime occhiaie, o magari, qualche imperfezione, devo dire, che questo prodotto, per le imperfezioni, è veramente, veramente, ottimo, perché comunque, quando andiamo a applicarlo, sulle imperfezioni, lo fissiamo, e lì non si muove più, niente ragazze, penso di avervi fatto vedere tutto, portato abbastanza, ma credo proprio, che mi basti, in questo mesetto, di vacanza, io, ho caricato, dei video, che caricherò pian pianino, oltre ancora, ad aver caricato, dei video, che avevo fatto, fatto precedentemente, appunto, in virtù del fatto, che dovevo traslocare, quindi, mi sono rimasti, lì in memoria, sicuramente, li caricherò, in questi giorni, ma non vi farò sentire, la mia mancanza, perché comunque, sono sempre su Instagram, molto spesso, sono anche sulla pagina Facebook, molto spesso, comunque, giù nel box informazioni, troverete tutti i link, ai miei social network, oltre che appunto, vederci qui, tramite i video, niente ragazze, vi ho detto tutto, vi mando un bacio, e noi come sempre, ci vediamo al prossimo video, ciao!